Il Consiglio regionale sarà chiamato domani mattina all'esame di ammissibilità sulla proposta di referendum abrogativo della riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Dopo il parere negativo dei funzionari regionali e quello dell'ufficio di presidenza del Consiglio, che non ha trovato l'unanimità, la decisione dovrà uscire dall'aula di Piazza Oberda. In tal senso si sono mobilitati i comitati per la tutela della sanità. A Trieste la referente Alessia Favretto ha fatto intendere quanto sia importante prendere a cuore tali tematiche. Noi ci siamo impegnati fin dal novembre 2014 per raccogliere delle firme che ci dessero a livello indicativo qual è il sentore delle conseguenze di questa riforma sanitaria che in un anno e mezzo in effetti ha fatto grossi danni per quanto ne pensano i cittadini. Ci siamo riuniti con i comitati spontanei di cittadini che sono nati un po' in tutta la regione e ben nove di questi comitati sono confluiti all'interno del comitato referendario per l'abrogazione della riforma sanitaria. Successivamente abbiamo presentato all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta per poter fare questo referendum abrogativo della legge sanità e non abbiamo ottenuto purtroppo l'unanimità. Ora la palla è passata al Consiglio regionale per cui noi domani attendiamo una risposta. L'intento del comitato è quello di far leva sulla sensibilità dei cittadini confidando in una massiccia presenza domani mattina all'esterno del Palazzo del Consiglio. Se da un lato poteva essere condivisibile lo slogan con cui ci è stata presentata cioè meno ospedale più territorio vediamo che da un lato ci sono stati dei tagli, dei ridimensionamenti, degli accorpamenti, delle chiusure di reparti, dei trasferimenti di servizi e dall'altro però non abbiamo visto questo potenziamento del territorio. Vorrei invitare tutti i cittadini per il loro senso civico come ho avuto io il senso civico per il coraggio forse anche di espormi, vorrei invitare tutti i cittadini domani mattina alle 9.30 a presentarsi in piazza Oberdan per manifestare a favore della difesa della nostra sanità pubblica.